Vai! Allora, carissimo, guarda qua. Tu c'è una carta interessante, d'accordo? Allora, tu stesso, adesso, prendi la carta da WQ. Guarda la ventola, guarda bene. Mi sta bene? Grazie, metti la carta da WQ. Te la ricordo o vuoi cambiarla? No, no, me la ricordo. Puoi anche cambiarla se vuoi? No, no, no. Sicuro? La tua carta non era questa, vero? Eh no. Ok, tieni la carta così, ferma e non ti manda. Guarda, tu hai una cortesia. Dimmi stop quando vuoi tirare. Stop. Questa? Ok, guarda. A me passa il gettico. Giro. Interessante. Interessante. Ma cosa hai fatto? Sei un mago tu, no? Ma ascolta qua.